Yuki è tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Ragazzi, l'ho sentito il rumore di anima dei maghi che sta qua dentro. Voglio anche tutto il set bellino di dati che ovviamente non tireremo fuori solo da queste tre confezioni, ma ne parleremo dopo. Beh tanto che ci so vorrei anche i liquid, The Dark Magicians che è bellino, la fusione preta pianta che ha fatto scendere il valore della mia perché la ho da led 5 e questa cosa mi fa molto piangere visto che il mio era il primo prezzo, ma dettagli. E niente, per il resto ci sono cartine carine ma non le cerco con grande interesse, diciamo. Ah anzi, una carta che vorrei c'è, il Sanghan Ultra. Perché voglio giocarlo in Gotto, assolutamente. E non voglio giocare quello da Turbo Pack, se non ricordo male. Per il resto, di carino, vabbè, c'è sintonizzare, Drago Fusione Veleno Affamato, Jojen, Necroface, vabbè ragazzi, andiamo a vedere dopo. Tanto fondamentalmente l'opening serve per questo. Ma a parte questo, se vi piacciono queste tipologie di video, perché li guardate e non vi iscrivete? pezzi di merda. Iscrivetevi a questo canale. Anzi, vi lascio anche i Twitch qua sotto in descrizione, perché la sera e dopo pranzo streammo. Quindi followate e passate. E tanto che ci siete, regalatemi anche quel Prime che rimane lì inutilizzato mese dopo mese, che è una cosa terribile. Inoltre, se volete convertire le vostre carte di Yugi, Magic e Pokémon in denaro suonante, scrivetemi su Instagram. Ritiro praticamente di tutto e non mordo. Tranquilli, potete scrivermi quando e come volete. Ah, ovviamente l'opening è sponsorizzato da Magic Corner. Se volete prodotto sigillato o carte singole, potete andare qua sotto in descrizione che trovate il link del loro sito. Inoltre, col codice sconto 2022 cappello, potete ottenere il 10% di sconto su carte singole o prodotto sigillato, che non è soggetto ad altra offerta. E no, non potete utilizzarlo su Car Market, anche se loro vendono anche lì. Allora, vediamo se a questo giro riesco a tirare fuori quello che voglio e, diciamo, anche il dado esclusivo, che da come so è quello del mago nero, ma non ho capito se è stato inserito solo in quelli che sono in vendita da GameStop. Boh, vediamo se ci andrà bene. Prima carta promo abbiamo Paura Maledetta, che vabbè questa l'avevo già, e il dado con il circolo del mago. Non è il mio preferito, ma non credo sia il preferito di nessuno. Vabbè, detto questo, andiamo con il primo pack e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Comunque, ragazzi, io non sottovaluterei questo set perché le carte in italiano, che escono da qua dentro, non si sa perché, ma nel tempo si valutano un botto. Quindi, se potete, e avete dei soldi da buttare, io un acquistino di 1-2 me lo farei, che poi, oh, può essere beccate la carta incredibile come la carta di merda. Però, nel senso, non costa neanche tanto, potete anche provarci. Allora, abbiamo gli Immortali Terrestri, qui là. Poi, tra le ultra abbiamo Artista Amico Mago Celestiale, Pistolero Synchron, molto bellino questo da giocare in Edison. Questa, ragazzi, tenetela sotto controllo perché è una carta iconica, è in italiano ed è una waifu incredibile. Poi abbiamo GoGoGoWanto, Hackel Cuore in Fiamme, Hero Flash, Navigazione Magica, Delfino Acqua Neospaziale, Segnale dell'eroe, Satellite Syncro e Parata dei Burattini. Va bene, diciamo che non è andata malissimo, però non c'è anima dei maghi. Se non esce quella, è un problema enorme. Secondo pack abbiamo Rasca, Karaiua, Kapuapu, va bene, è il pack degli Immortali, N, Kallua, I, Rinascita Immortale Terrestre, Kusillu, quanto godo, quanto godo, cazzo! Godomboto! Allora, questa è la versione oro, e sta? E sta a 17 euro, quanto godo! Oh, finalmente, le soddisfazioni, grande! Siamo solo al secondo pack e non so ancora cosa c'è dietro. Vabbè, prodigio infernale, eroe malvagio, anche no. Uh! E circolo magico nero? Prima non ho trovato due carte? Va bene, ok. Poi abbiamo Hydra, Hero Flash, Predaplasto, Curi Balato, che non gli hanno dato nessuna rarità, Segreti, Drago Stregone e Burattino Arnese, bam bam, e Burattino Arnese, bambola gigante. Ti dirò, ti dirò che così male la situa non è. Allora, andiamo col secondo e vediamo cosa esce. Spero in un dado bellino. Eh, ok. È il dado di H, il cuore in fiamme. Questo l'ho regalata alla vostra fidanzata per fargli capire che siete innamorati un botto. Poi gli mettete le corna con la sua amica. Abbiamo il dadino, che è molto bellino, ma non è quello del mago nero. Ok. Allora, vediamo la promo adesso. Elfo mistico, fulmine bianco. Vabbè, almeno non è un doppione. L'importante è quello. Allora, Santuario scuro, carta di Marika. Ruggito dell'Immortale Terrestre, Uru. Spirito scuro della malvagità, Rasca. Karayua. Kapauapu. Penso che gli immortali ne abbiano messi una quantità infinita qua dentro. Poi, Ascator, camminatore dell'alba, molto bellina come carta. Poi abbiamo Maga Illusione Apprendista, altra carta iconica. Ragazzi, tenete sotto controllo sta roba, eh. Ovviamente non vi sto dicendo che queste domani stanno a 70 euro, però, nel senso, possono salire da 3 a 5 a 7 euro. Così, eh, ovviamente. E, alla Infernale, Eroe Malvagio. Mmm, è andato un po' così questo, eh. Ma vediamo. Allora, poi abbiamo Dodododonato, Mago Illusione Nera, Navigazione Magica, Salta Fuori Artista Amico, Hydra, Hero Flash e Predaplastro. Un po' un pack del merda, eh. Allora, allora, vediamo cosa abbiamo nel quarto pack. Ok, non c'è. Un'altra anima dei maghi sarebbe incredibile. Abbiamo Malicious, Sentenza del Destino che è bellissima. Peccato che non è foil. Mente Malvagia, Infinito dello Spirito della Terra, Maggiore Terrestre, Fusione Oscura, Oracolo del Sole, Combinazione dei Maghi. Dovrebbe sarà qualcosa, se non ho sbaglio, eh. Mmm, non credo più, però controlliamo per sicurezza. Mmm, no. Non vale comunque nulla. Perfetto. Poi abbiamo Guerriero Satellite e un altro Circolo Mago Nero, però. Nel senso. Perché mi dai copy in più di cose che non voglio. Abbiamo poi la Tunica del Mago Nero, Azione Sorridente, Access Synchro, Grattacielo, che si gioca in Edison, Onomatori Tiro, C15, Mago Ga Ga Ga, e Dimensione Pendulum. Allora. Allora, ragazzi, abbiamo l'ultimo. Possiamo confidare nel Dato del mago nero che non so effettivamente se c'è E in una promo migliore rispetto a quelle che mi ha già dato Considerate che ho ad aprire un altro cofano da 6 Di queste cose Quindi vi aspetto in live Perché quello non lo apriremo in video Mi spiace Allora, allora Abbiamo un'altra Hack Ho il cuore in fiamme Potevano farlo verde con la E Oppure no, che sai ragazzi Che figata poteva essere La scritta Hero E poi Hero Flash era promo Incredibile Un'altra promo bellina Bella come carta Non sta un cazzo Però è molto bella È una versione rifatta di Kaiser Glieder di Kaiba Allora Andiamo col primo pack E vediamo cosa ci riserva il cuore delle carte Pesco 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 Sembra che devo andare a cagare Beh, gold brunito C'è posto sta Ti dirò Che è andata proprio una merda Ci siamo giocati tutto con quell'anima dei maghi Dimensione Pendulum Preda Plasto Esibizione dei Burattini Preda Ponica Mago Gagaga Magia Illusoria Circo del Mago E Segreti della Magia Nera Ah, è vero Abbiamo l'ultimo pack Per favore Un'altra cosa decente Per favore Per favore Per favore Per favore Yu-Gi-Oh Tra le stelle andrà Yu-Gi-Oh Sempre salirà Yu-Gi-Oh Sai combattere Yu-Gi-Oh Tu puoi vincere Il tuo drago di stelle Di polvere Più potente E' andata così Però Non demordo Io voglio quel cazzo di dado Del mago nero E voglio che ci sia Perché devo finire il set Altrimenti mi sento In crisi mistica Poi voglio un'altra anima dei maghi Ormai Ormai mi sono impuntato E deve uscire E poi in sei Cioè nel senso Me ne aspetto almeno due Inoltre non mi è uscito Il sangan per gotta E' un problema Konami Dov'è il mio sangan? Con la scritta Oro Perché Blu Mi stanno un pochino E il rosso non me convince Dov'è il mio sangan? Lo scopriremo in live su Twitch Quindi link in video ragazzi Vi aspetto Detto questo ragazzi State me easy E noi ci vediamo Prossimamente Sempre qua Con un nuovo video Ciao a tutti